ciao ragazzi benvenuti a questo secondo appuntamento con il nostro podcast che cercheremo di mantenere in fine settimana per fare una sorta di recap di quello che è successo nel corso degli ultimi sei giorni questa settimana come sapete è stata densa di notizie quindi c'è parecchia carne al fuoco siamo qui con il nostro zeusexy riccardo ciao ciao a tutti questa settimana una marea di news tra cui sony 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 e poi ancora sony che scazza tantissime cose bellissime successe nell'ecosistema playstation siamo tutti entusiasti di come sony stia gestendo la situazione ma la prima notizia è stata di epic è stata del nostro simpaticissimo team suini che molti di voi conosceranno con l'appellativo italiano di timoteo maiali ecco epic store non è esattamente lo store più amato nel nel panorama pc si scontra direttamente con steam tante persone lo detestano tanti altri lo utilizzano perché epic store regala giochi epic store regala un gioco a settimana non è mica poco è voglia dal valore medio di 2 euro e 50 però lo regala tu vai lì c'è la libreria sei contento mi danno la cosa gratis quindi non ho il carrello però mi regalano i giochi quindi sai sì allora in realtà qui su sui commenti di qualche video precedente ho visto che una serie di utenti nostri utilizzano epic store per giocare vuoi perché fortnite è soltanto lì vuoi perché magari ritrovandosi con una serie di titoli lì viene anche comodo utilizzarlo vuoi perché non hanno pregiudizi nei confronti di epic store magari noi abbiamo dei pregiudizi non è detto che noi siamo nella parte del della ragione ovviamente il discorso è che il signor team suini investe tanti soldi investe veramente tanti soldi non nel miglioramento dello store ma nel siglare contratti di esclusività per regalare giochi e a quanto pare soltanto nel corso del 2020 epic avrebbe speso 440 milioni di dollari nel siglare dei contratti di esclusività o di giveaway essenzialmente con una serie di sviluppatori quindi 440 milioni in un anno spesi per avere l'esclusiva temporale di una serie di giochi che quindi non arrivano su steam arrivano soltanto su epic store pensiamo per esempio a tutti i videogame di square enix recentemente square enix annunciato ha fatto uscire tutti kingdom hearts praticamente solo su epic store e non su steam bella mossa e la cosa interessante poi è che di questi 440 milioni 330 milioni sono di perdite quindi solo nel 2020 epic store ha fatto 330 milioni di perdite causate dalla volontà di regalare questi giochi una volta a settimana e di avere questi titoli in esclusiva rispetto steam che dire chi l'avrebbe mai detto no chi l'avrebbe mai pensato chi l'avrebbe mai immaginato che investire sul rubare le esclusive temporali di terze parti e non migliorare il proprio store non aggiunge delle funzioni direi anche essenziali sarebbe stata una mossa direi discutibile io sono sempre stato un detrattore del timoteo maiali store perché ritengo che non porti nulla di utile all'utente cioè non apporti nessun tipo di cambiamento nonostante poi il grande filantropo timoteo si si vanti della sua insomma del della percentuale che poi va agli sviluppatori che è nettamente inferiore a quella di di steam e di altri publisher però poi questo come va a beneficiare i giocatori non si capisce bene il il punto è che non solo il il epic store non ha è andato in perdita nel 2020 di 330 milioni di dollari ma secondo gli analisti di apple sarà in perdita fino al 2027 quindi penso che voglio dire epic games come azienda attualmente ha un patrimonio stimato mi pare di 19 miliardi di di dollari quindi voglio dire che possono anche permetterselo per carità io sono totalmente ignorante ammetto di essere totalmente ignorante ma navigo su internet e quello che mi domando è quanto costa in un sito di e-commerce qualunque sviluppare un carrello quanto costa mille euro 5 mila euro ne costa per assurdo dieci volte tanto 50 mila euro su 440 milioni di dollari sto tizio non ha avuto il buon senso e la lungimiranza di migliorare il suo store con una funzione basilare come un carrello che poi non è ovviamente manco una questione di carrello qui è si parla di possibilità di lasciare commenti si parla di post di possibilità tra gli utenti di scambiarsi pareri opinioni tutte queste funzioni che non ci sono su epic store richiederebbero nulla per essere implementate semplicemente si sceglie di spendere quantità gigantesche di denaro in cose che non hanno nulla a che fare con la qualità del servizio è una scelta arbitraria e su fortnite ma è anche è ovvio calcola che la gallina dalle uova d'oro per cui loro investono la maggior parte del loro budget continua ad essere sulla cresta dell'onda più o meno fa ancora tantissimi soldi fortuna per carità li stanno investendo in qualche modo cercando di costruirsi una community il fatto è che questo non è un modo intelligente di costruire una community regalare dei giochi non è una cosa che ti porta la gente a restare se tu non mi offri un servizio che sia equiparabile o migliore c'è stato ilon musk che diceva nel momento in cui tu vuoi presentarti con un tuo prodotto un tuo progetto tu non puoi permetterti di avere un progetto che sia alla pari o leggermente superiore quando ti scontri con alcuni colossi dell'industria lui parlava ovviamente di ford e di altre aziende tu devi avere un prodotto che sia infinitamente migliore per sperare di competere con loro e anche in quel caso la competizione il successo non sarà garantito qui invece epic store non è niente è un ecosistema scarno a dir poco senza funzioni per gli utenti il cui unico merito il fatto di avere un 50 per cento di meno di tassazione sugli sviluppatori che però non si traduce in un miglioramento del della vita una quality of life migliore per i giocatori stessi esatto ma poi quello che a me per prime parecchio è che gli sviluppatori indie beneficiano di questa percentuale più bassa ma nella maggior parte dei casi le esclusive sono tripla a infatti gente come square enix non penso che square enix abbia bisogno di è paradossale il discorso di square enix che ti va a fare il contratto di esclusività con epic store è allucinante cioè square enix è uno dei publisher più grandi a livello globale e sceglie di farti il giochetto di andarti a fare l'esclusività temporale su kingdom hearts che è un franchise attesissimo per i giocatori pc da anni mi ero fatto un giro sulla road map di trello di epic games e vedevo che il carrello il carrello con anche le altre valute metodi di pagamento addizionali review degli utenti profili mentale cioè i profili tu non hai un profili si lasciamo stare discorsi tipo achievement trofei e cose del genere perché quelli ok cioè si parla proprio di cose molto molto basilari ma scelgono di investire in questo modo che è una cosa discutibile a dir poco però quantomeno c'è gente che a quanto pare è interessata e crede in questo modo di sviluppo in questo modo di portare avanti gli affari e tra queste persone c'è sony sony che bella personcina sony che ha investito 200 milioni di dollari extra dopo averne già investiti se non ricordo male 250 no no 800 ne aveva già investiti 800? si si è un miliardo adesso ok ha investito altri 200 milioni in quote di epic games bene bene vabbè io penso che siano più che altro rivolte al real engine non penso che ci sia una partnership diretta con le big game store anche perché se calcoliamo che l'annuncio proprio stato ieri o dell'altro ieri di days gone è su steam io non penso che ci sia una partnership di esclusività con le big game store penso che sia più rivolta a strumenti tecnici per gli sviluppatori come la rial io credo che sia una cosa bilaterale cioè l'arrivo di kratos e aloi in fortnite l'ho interpretato come un vantaggio in termini di immagine magari per fortnite in alcune fette di pubblico magari più hardcore che si vedono questi personaggi magari infiati all'interno di sto gioco magari minchia lo provo ci hanno messo aloi ci hanno messo kratos contemporaneamente sono assolutamente d'accordo con te sul discorso di epic di un real engine e questo è positivo perché se sviluppi con real engine e non utilizzi più dei motori grafici proprietari è realistico presumere che sony voglia continuare a investire in questo esperimento pc che sta portando avanti da un po di tempo a questa parte ricordiamo che se sviluppi su un real engine portare un gioco da playstation 4 playstation 5 a pc risulta molto più agevole molto più rapido e molto meno costoso rispetto a quanto non possa essere stato magari il lavoro con altri middleware o altri o altri motori grafici quindi da questo punto di vista sarà interessante vedere come sony gestirà la situazione nei confronti di pc che non viene visto effettivamente come una concorrenza diretta al mondo delle console quindi da sto punto di vista ok sì 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 c'è anche stata la notizia la notiziona il leak da parte di dal solito jason schreier sulla sul focus di sony verso le esclusive first party triple a e il totale disinteresse verso tutto ciò che è esulita quindi in sostanza il buon buon tra virgolette schreier ha carpito delle notizie abbastanza preoccupanti all'interno della compagnia e delle voci che parlano di una scissione totale ormai con il giappone una scissione che si è delineata nel corso di due tre anni perché io mi ricordo che fin dal 2018 che si parlava di questo di queste tensioni tra la parte orientale e quella occidentale di sony adesso a quanto pare ci sono anche delle voci che parlano proprio di sviluppatori in preda al malcontento e che se ne sono addirittura andati un mare se ne sono andati ormai ma non solo dagli studi giapponesi anche dagli studi come Naughty Dog sì diciamo che questo è abbastanza indicativo ricordiamo che nonostante sony avesse comunque una grandissima fetta di mercato in giappone l'ha a tutti gli effetti presa a calci e l'ha ignorata in favore di giochi che effettivamente interessano solo ed esclusivamente al versante occidentale della sua fanbase perché culturalmente il politicamente corretto non è accettato in giappone se tu ti butti sul politicamente corretto automaticamente ti tagli fuori una parte di pubblico gigantesco in giappone quindi tu a quel punto devi scegliere dove vuoi andare e sony ha scelto il politicamente corretto sony ha scelto quello che viene considerato occidente perché gli stati uniti e l'occidente in generale sono il mercato più importante in termini di numeri, in termini di introiti e di incassi questo significa però sacrificare tutto quello che c'è dietro tutto quello che c'è sul suolo giapponese che è ancora un mercato importante è ancora un mercato importantissimo e sta facendo il gioco di tutte quelle minoranze particolarmente vocali di social justice warriors femminazi e tutti questi movimenti estremisti che chiedono un tipo di prodotti che poi ti vanno a risultare in un The Last of Us parte 2 rovinando tutto quello di buono che era stato fatto magari con un primo capitolo della serie ed è un peccato è un peccato e si parla anche di un remake di The Last of Us perché io mi ricordo che nel 2018 ho pubblicato un articolo sul sito dove dicevo che sony si sarebbe concentrata esclusivamente su dei cloni di The Last of Us se ci pensiamo bene tutti i giochi che sono usciti dopo The Last of Us first party più o meno tutti diciamo non tutti hanno seguito quella falsariga chiaramente dell'action adventure cinematico con insomma la visuale in terza persona con la storia prevalentemente narrata tramite cutscene e tutte quelle robe lì sono state variazioni sul tema rimanendo all'interno del AAA allora il discorso è questo dalla mia prospettiva io vedo molto sony come Ubisoft cioè una totale rimozione dello sperimentalismo all'interno delle proprie produzioni ci ricordiamo noi il periodo in cui Ubisoft fece uscire il JRPG quello 2D ah Child of Light Child of Light e contemporaneamente uscì anche quello sulla Prima Guerra Mondiale Valiant Arts bravissimo c'era anche Rayman tra l'altro che c'era anche Rayman era ancora una cosa Rayman e Sony adesso sta facendo la stessa cosa con i propri AAA cioè non sta provando più nulla di nuovo ok? che è una cosa che fa incazzare perché sì mi si può dire che Ghost of Tsushima è più action mi si può dire che Days Gone è più survival ma siamo sempre all'interno di un cerchio di produzioni AAA molto molto delineato, molto definito oltre il quale non si sta provando nulla io paradossalmente adesso sono più interessato a quello che stanno facendo gli sviluppatori di Resogal e mi dispiace il fatto che gli sviluppatori di NAC non ci siano più NAC non mi è piaciuto per niente è una merda ma stavi provando qualcosa? io preferisco sapere che stanno provando qualcosa di nuovo piuttosto che vedere tutti una serie di giochi fatti con lo stampino che magari ti prendono il 9 e il 10 dalla stampa specialistica specializzata però tutti uguali cioè non credo che questa sia la soluzione migliore se si guardano gli interessi dei giocatori magari economicamente poi questi discorsi gli danno ragione però non lo so palle a terra per quanto mi riguarda palle a terra è purtroppo grande rammarico perché circolavano fino a qualche giorno fa delle parole di Sean Layden che era l'ex capo di Sony Entertainment America e in sostanza Sean Layden vantava il marchio Sony, PlayStation come un marchio di grande innovazione, di grande sperimentazione ma lo è stato? lo è stato certo che lo è stato ma soprattutto grazie agli sviluppatori giapponesi che adesso sono stati sfanculati purtroppo però quello che è assurdo è che con l'avvento di Jim Ryan siano cambiate tantissime cose ma da così a così cioè sono totalmente diverse ora come ora infatti Sean Layden ha rilasciato anche delle dichiarazioni dei podcast insomma delle interviste dove si dice seriamente preoccupato per quello che sta succedendo e penso che in cuor suo se lo aspettasse ma lui se n'è andato ma perché stava chiaramente aveva un'idea di quello che sarebbe successo non è che se n'è andato così per caso perché era stanco come Reggie non se n'è andato per ben altri motivi lui ha percepito che ci sarebbe stata una grandissima scissione un cambio di politica e di filosofia aziendale nel peggio e quindi insomma si è serendata a gambe fa riflettere anche il fatto che Sony abbia praticamente cestinato il sequel di Days Gone che per carità a me non interessa non è un gioco che comunque rientra nelle mie corde non è piaciuto nemmeno a me non è piaciuto in generale però l'ha cestinato l'ha cestinato per un remake un remake di The Last of Us un remake di The Last of Us che è un gioco che ha avuto adesso un remake su PlayStation 4 PlayStation 3 è il gioco PlayStation 4 è il remake in alta definizione PlayStation 5 è il remake chi ti ricorda questo? questo si chiama milking è una strada che porta lì dove sono arrivati adesso Ubisoft e tanti altri e questa è la strada io non vedo altri possibili sbocchi onestamente tu ne vedi? guarda sviluppatori capaci Sony ha veramente degli eccellenti sviluppatori nei team interni il punto è che se la dirigenza andrà a imporre scelte creative di questo tipo non la vedo Rosia Sony ha il vantaggio che sviluppa sempre dei prodotti multimilionari e che portano un sacco di soldi nelle sue casse quindi non mi aspetto crolli ma declini sì almeno per quanto riguarda una determinata fetta di pubblico quella magari meno soggetta al peso del marketing in generale da quel punto di vista sì credo che potrebbe esserci un declino perché questo tipo di sviluppo non è sostenibile a lungo andare secondo me secondo me e secondo la storia anche credo che ci sia stata una marea di crunch anzi credo ne sono sicuro c'è stata una marea di crunch su The Last of Us 2 e una marea di sviluppatori che se ne sono andati perché non erano contenti di come fosse andato lo sviluppo quindi questa non è una strada sostenibile tu non puoi sviluppare AAA ogni 3 secondi perché ci vogliono perlomeno 4-5 anni per fare un gioco della portata 4-5 anni reali non 4-5 anni cancelliamo il lavoro nei primi 3 ricominciamo dal capo come fanno la maggior parte degli sviluppatori sì ogni riferimento è puramente casuale quindi non penso che sia una strada sostenibile però se Sony crede che sia Jim Ryan più che Sony crede che sia la cosa più giusta da fare noi lasciamolo fare tanto oramai non abbiamo più neanche bisogno di comprare una console Playstation visto che i giochi ci arrivano su PC ultima è quella di Days Gone ma ce ne saranno anche altri credo avessero annunciato anche che cosa era Bloodborne, God of War probabilmente manterranno un'esclusività temporale sulla macchina hardware dopodiché proveranno a vedere quanto riescono a monetizzare sul mercato PC per loro non è un problema il mercato PC perché comunque chi ha un PC è un utente diverso in genere rispetto a chi gioca su console tra le altre cose sempre riguardo il mercato giapponese ho visto che Playstation 5 è calata nuovamente ha avuto soltanto una settimana a caso in cui è riuscito a piazzare 30.000 pezzi adesso è riscesa a 15.000 unità 15.000 unità in una settimana contro circa 100.000 Switch vendute nello stesso periodo di tempo problemi di approvvigionamento tutte esaurite non riescono a produrne abbastanza tutto quello che volete ma l'azienda Sony sta dedicando 15.000 console a settimana in un mercato che chiede di poter comprare le macchine e sceglie deliberatamente di rivolgersi ad altri mercati il Giappone non vale più niente Nintendo se lo sta divorando se guardate le top 10 con le top 30 leggerete soltanto giochi Switch non ci sono giochi per altre piattaforme è Nintendo 3DS magari è Nintendo 3DS c'è un mercato che porta ancora un mare di soldi lasciato lì tutto nelle mani di Nintendo e a questo punto non dico che Microsoft dovrebbe riprovare perché voglio dire Microsoft non so se riuscirà mai ad avere uno spazio in quel mercato però in questo momento c'è praticamente un solo contendente cioè Nintendo sta facendo strada a sé a tutto il mercato è una grande occasione mancata per Sony Microsoft ci sta provando io avevo letto l'altro giorno che ci stava provando con a promuovere l'Xbox Game Pass con le VTuber giapponesi le sta provando tutte Microsoft ma perché ha capito che chiaramente Sony qui ha come si dice drop the ball per quanto riguarda tornando a Nintendo c'era questa dichiarazione di Furukawa il presidente che diceva che lui a differenza chiaramente tra parentesi a differenza di Sony lui spingerà per un focus sia sulle IP storiche quindi Mario, Zelda, Pokémon eccetera ma anche sulla creazione di nuove IP quindi qui vediamo la differenza abissale che c'è tra Sony e Nintendo nella filosofia di sviluppo di videogiochi e poi storicamente Nintendo non è che si sia comportata sempre bene nei confronti delle proprie IP anzi Nintendo è un'azienda che ha creato poche nuove IP nel corso degli anni preferendo invece affidarsi a poca roba su Wii U abbiamo avuto soltanto Splatoon su Switch abbiamo avuto soltanto ARMS se escludiamo Snipperclips vabbè però la cosa strana di Nintendo è che non abbia mai avuto una reale intenzione forse di sfruttarle a fondo le sue IP Nintendo ha tantissimi franchise che sono stati totalmente abbandonati nel corso degli anni e che erano validissimi se pensiamo per esempio ad Earthbound Mother o se pensiamo ai Golden Sun bellissimi JRPG stupendo sì se pensiamo agli F-Zero cioè Nintendo ha tantissimi franchise che vengono a un certo punto abbandonati non si capisce bene perché perché comunque vendono bene che insomma sono veramente totalmente del tutto sprecati sarebbe interessante se allargassero i generi coperti ok perché Nintendo in questo momento da tanti anni a questa parte in realtà copre benissimo alcuni generi ma ne ha altri lasciati completamente senza copertura e sono dei buchi secondo me molto grossi quando poi un giocatore pensa che console vado a comprare cioè Nintendo non ha giochi di guida ok Nintendo non ha giochi action veri e propri perché se pensiamo a Metroid siamo sempre nel genere tra il Metroidvania o l'adventure dei Metroid Prime Nintendo non ha tanti generi tantissimi generi è straordinaria nei platform è straordinaria nei puzzle game ma gli mancano gli manca copertura gli mancano i giochi di ruolo per dire non possiamo parlare di Mario RPG o di Pokémon come giochi di ruolo tradizionale non ci sono esperienze VRPG quindi da questo punto di vista se ci fossero le nuove IP sarebbe sicuramente interessante secondo me sono d'accordo però è anche vero che ci ha provato ultimamente prendiamo dei giochi come i Clubhouse Games Ring Fit Adventure c'è anche Astral Chain molti sono chiaramente affidati a Platinum ti ricordi che c'è anche la questione ma è stato finanziato da per Nintendo Astral Chain sì sì infatti ad oggi è comunque un esclusivo ok quindi Bayonetta e Astral Chain li consideriamo come action sì sono ottimi rappresentanti del genere poi c'è anche la volontà di focalizzarsi su Splatoon e sui suoi seguiti quindi comunque Splatoon 3 è stato già annunciato e questo mi fa ben sperare poi se ci saranno dei sequel sì c'era il sequel di Ring Fit Adventure se non mi sbaglio che è un ottimo gioco lo consiglio tantissimo soprattutto se vede la panza lo ho provato lo hai fatto? ho molta panza il motivo per cui non lo provo è il fatto che ho molta panza quindi voglio conservare è un gioco che ha l'obiettivo come obiettivo finale quello di farti perdere un po' di panza quindi questa cosa non succederà bene comunque io l'ho provato e devo dire che fa il suo dovere lo fa bene è carino anche a livello videoludico non soltanto a livello sportivo quindi sì poi c'era la questione Labo che non so dove sia andata a finire onestamente non ho neanche mai provato Labo credo che sia un prodotto morto e sepolto stile Wii Music messo in mezzo a gli esperimenti falliti di Nintendo non credo proprio che vedremo altro di Nintendo Labo però perlomeno ci prova sai meglio fare così che con Sony sì sì ci prova infatti come ci ha provato con gli Amiibo voglio dire cioè mi sta bene il fatto che provino a inserire idee questo è quello che voglio vedere da parte di un'azienda di questo calibro un'azienda che produce hardware e che voglio che mi proponga idee nuove questo va benissimo anche perché le idee che falliscono non è detto che non possano essere rielaborate o riutilizzate in futuro per creare delle idee di successo è questo che manca a Sony secondo me sono fossilizzati sul template di The Last of Us e non vanno più oltre è quello il mio grande rammarico sì 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 è proprio un template è proprio una struttura fissa statica che viene ripetuta a oltranza è come l'Assassin's Creed di Ubisoft o il Far Cry di Ubisoft sì per le cose della settimana abbiamo coperto più o meno tutto mi sembra sì c'erano forse delle news velocissime che riguardavano delle cose in sospeso sulle altre settimane abbiamo fatto un video su Nier Automata oddio sì denunciando la non curanza di Square Enix verso gli utenti Steam e abbiamo preso di recente che ci saranno delle patch correttive non si sa quando arriveranno non si sa se arriveranno però incazzarsi farsi sentire nei commenti e ridurre le valutazioni delle proprie recensioni su Steam o su Metacritic a quanto pare aiuta sì alla faccia di tutti quelli che dicevano no smettila di lasciare review negative non serva a niente non ti ascoltano bla 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 il review bombing è uno strumento se lo utilizzi con un certo criterio e vuoi ottenere un risultato puoi anche ottenerlo perché qui si sta parlando di una cosa che era corretto fare cioè non puoi rilasciare un update correttivo per un gioco su uno store e non su un altro è follia poi 4 anni senza un update sì vergognoso paradossale e poi che altro c'era aspetta queste sono news veramente flashissime c'era la censura di Diablo 2 vabbè ma questa è una roba ma è giusto non è che adesso uno può rilasciare i giochi senza censurare stiamo scherzando ci sono i bambini praticamente nell'alpha di Diablo 2 i giocatori hanno scoperto che moltissimi personaggi sono stati sono stati invecchiati adesso sono tutti vecchi non si sa per quale motivo e censurati chiaramente gli hanno applicato delle patch stile paint ma è giusto cioè perché se tu metti il personaggio giovane seminudo è una cosa che non va bene la vecchia seminuda è una buona cosa come senz'altro soprattutto di quei giocatori di Diablo che ricordiamo ti devi fidarti cioè giocatori di Diablo che avranno 40 anni ciascuno 50 anni minimo tra cui io però vabbè lasciamo perdere ormai Blizzard è quello che è non merita neanche delle menzioni non so perché io abbia tirato fuori questa news però vabbè tant'è e poi c'era un'ultimissima cosa su Kojima che probabilmente ha commissionato il suo prossimo gioco a Microsoft sembra che a quanto pare ci sia una collaborazione in ballo tra i due Kojima che è sempre eccentrico molto particolare non mi risulta che abbia avuto restrizioni di sorta per quanto riguarda Death Stranding da parte di Sony giusto? Purtroppo o per fortuna non importa a me mi interessa comunque che abbia libertà creativa poi se il gioco è piaciuto o meno è un altro paio di maniche che abbia avuto però libertà creativa è importante mi pareva che comunque avesse detto che non aveva avuto restrizioni non è che avrebbe potuto dire altro per carità però non mi pare che ci fossero state la mente in termini di gestione sarebbe interessante vedere una collaborazione con Microsoft per vedere sto tizio può tirar fuori un capolavoro come niente sicuramente tira fuori roba particolare peculiare quindi speriamo che non ci sia un bis di Princess Beach perché lì potrei morire effettivamente se c'è Microsoft in mezzo penso che si parli di grossa produzione con budget importanti dietro tutto il resto spero non lo so speriamo bene quindi cos'è abbiamo finito? sì credo che siano tutte le informazioni principali più interessanti della settimana non coperte precedentemente dai video vogliamo provare comunque a rifare un recap la settimana prossima per vedere un po' se ci saranno altre notizie interessanti di cui vale la pena di discutere se avete domande dubbi commenti che volete fare mal di pancia in generale vi va di condividere con noi i vostri movimenti intestinali è comunque una cosa che potete fare vi dovete sentire liberi parlate di noi alle vostre mamme alle zie fatevi sentire nei commenti qui sotto se volete interagire con noi ci sono una serie di link qui se volete supportare il nostro lavoro vi salutiamo ciao 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 ragazzi e ci rientriamo alla prossima